E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, Benton di qui su Red Dead Redemption 2 Pronti per diventare gli uomini più ricercati di tutto lo stato, di tutti gli stati qui presenti in Red Dead Redemption 2 Abbiamo un trofeo da andare a prendere, vi avevo già parlato di questa eventuale cosa che volevo fare in un video di Dirt 5 Serie che potete trovare sul canale, andatela a seguire Siamo qui a Fort Mercer, perché dobbiamo iniziare qui a farci prendere, a farci ricercare Lo scopo del trofeo è sopravvivere per almeno 3 giorni con una taglia di 250 dollari in tutti gli stati presenti Ora siamo qui nello stato del New Austin in Mexico, poi ci sposteremo nel West Elizabeth Abbiamo Ambra Bino, New Hanover e Lelemoin Quindi sono 5 stati dove dobbiamo raggiungere una taglia di 250 dollari Iniziamo qui, abbiamo anche il nostro certo fascino, giusto per non farci riconoscere Siamo armati di tutto punto con l'itchfield a ripetizione, rolling block a canna di gata, la revolve di Callaway e la pistola Volcanic In condizioni sono tutte quante ottimali, poi qui abbiamo anche dinamiti, bombe incendiarie, coltelli che più ne metta Io direi di iniziare immediatamente a creare il panico facendo fuori le guardie di Fort Mercer Boom Mortacci che qua sparano subito, ma le guardie Le guardie qui dove sono? Quando voglio essere ricercato non c'è mai nessuno, bisogna andare via da qua a questo punto Neanche a Fort Mercer, le ho gli sci Andiamo in quel di Tumbleweed, andiamo a vedere se lì riusciamo a farci ricercare Ok, siamo a Tumbleweed Perfetto, ricercato Vai, iniziamo a far danno Boo Cerchiamo di rimanere sul cavallo in modo da E poi quando arriviamo ai 2.50 Ci facciamo Ci diamo alla fuga Alla fuga più brutta del Della vita Forza Tu, tutti qua siete Ah, stanno arrivando Ok, vai che con il Dead Die Facciamo i danni quelli veri Non so, a volte neanche servirebbe il Dead Die Però ce l'abbiamo questa possibilità, sfruttiamola Uh, guardali, guardali, guardali Niente, c'era un cazzo di sasso qui Una gialla troia Facciamo l'aggiramento tecnico-tattico No, no, non voglio scappare Così Vai Eh, 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 eh Amore, ammazzato Vabbè, mi sono un attimo incartato Ci sta Lisciato clamorosamente Vai Ecco te l'abbiamo fa 2.35, signori Siamo sulla strada giusta Oh, porca miseria, salta Ok Volevo prendere il cavallo Ma in realtà non ce l'ho fatta Vado un po' in apnea Quando, quando sparo Ok, 2.55 Forse Ok, adesso ci possiamo dare alla fuga Oh, vogliamo farla salire Tipo, che ne so 300 Facciamo 2.55 Diamose 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 Tanto lo dobbiamo fare In 5 stati Quindi dobbiamo Dobbiamo creare tanta di Dobbiamo creare parecchia di Di scompiglio Ok New Austin Taglia 255 Dollar Perfetto Difatti qui Siamo ricercati nel New Austin Perfetto Sì, ok Non è Non è evidenziato solo Thumbleweed Ma è tutta New Austin Perfetto Quindi adesso dobbiamo Allontanarci da qui E dobbiamo andare Qui Nelle West Elizabeth E andiamo a creare un po' di scompiglio Ovviamente facciamo Un accampamento Per farsi Da poter utilizzare Un viaggetto rapido Ce ne andiamo Alla Blackwater E da lì inizieremo a creare scompiglio In quello delle West Elizabeth Ok A Blackwater Ci mettiamo la maschera In modo da non farci identificare Dobbiamo riprenderci ovviamente le armi Che rottura di coglioni Andiamo di olio di serpente Ragazzi A me spiace per voi Ma io devo iniziare a creare il panico Vai Ma vai Tu e Simone Allertate le guardie Dove sono le guardie? Ma che cosa vuoi fare? Vuole sparare Lui è arrivato I am invincible Ma quei cavalli erano morti What? E niente il vigile E ma infatti Scusi eh I'm here man Oh Porca Di Quella Vai Di qua Che fai? Scappi? Ma andai a questo Gli ho fatto volare il cappello Aspetta Gira di qua Gira di qua Gira di qua One moment One moment Ok Così Gomma la cocaina E si va E si va E mai solo in gioco Solo in gioco Signori di youtube Sia chiaro Perché con il dead die Almeno perdiamo meno tempo Oh Perbacco Ho visto un proiettile Che mi ha sfiorato L'anima Si Facciamo casina Black water Si Boh Volevi 190 dollari Guarda Rimango sul cavallo Perché a me È più rapido scappare Perché potrei anche scendere Ma poi Sarebbe un problema Per scappare Boh 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 Ma guarda Si è salvato con il palo Il pezzo di vango Che bugio di culo Incredibile Boh Mori anche tu Ragazzi Ma dai però Un po' di 2,75 Oh porco Qui la taglia sale Sale vertiginosamente Più che altro perché poi Non vorrei farle salire troppo Perché poi pagare per toglierle Ci parte un patrimonio Scusa signore Ma te ti ho visto la difficoltà Che fai Non ti ammazzo Pare brutto Anche tu Non puoi scappare Io ho fatto la cappella Io ho fatto volare il cappella Ok Via Damose 345 Madonna Non ci mette niente a salire C'è più che altro perché Rischiamo di arrivare a 1000 dollari di taglia Che Che è un attimo Più che altro Adesso ci seguiranno Poi Andando avanti Dovremmo stare attenti Ai cacciatori di taglia Ok Così almeno Non ci seguono O almeno ci proviamo 385 Merda Sto tornando indietro Ma Devo trovare un punto Per scendere Fuck Di qua Di qua Dai che forse adesso Però qui non c'è più nessuno Dobbiamo dirigerci Verso sud ovest Ok West Elizabeth Taglia di 385 dollari Ok Anche nelle West Elizabeth Siamo Ricercati Per una taglia di 385 dollari Ovviamente Come vedete Anche a Strawberry Diciamo Cioè a Blackwater Adesso abbiamo proprio Il coprifuoco qui Cioè entriamo qui E veramente Se succede un macello Però Mettalo a farla Ad ogni città È praticamente impossibile Ci spostiamo adesso Nelle Ambarino Purtroppo Nell'Ambarino Mi sa che Non c'è Fort Mers Fort Wallace Perché Fort Wallace Appunto fa parte Di New Hanover Eh Questo potrebbe essere Un problema Anche perché Di queste Di queste parti Non c'è quasi un cazzo Di nessuno Dovremmo provare Adesso ci stiamo spostando A Valentine E Facciamo un po' di paniculi E poi Proviamo ad andare Verso Ambarino Vediamo cosa succede Bene Siamo a Valentine Signori Quindi è Il momento di Creare panico Per fort Indagini in corso Vai Si mette il Lichfield E si inizia a fare Il danno Vai vai Testimoniare Testimoniate Sono in cerca di rogne Sono in cerca di guai Vi faccio fuori a tutti Adesso creiamo Adesso vi scateno Contro una guerra Che neanche ve lo immaginate Boh 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 Uno Due E tre Dove sono gli uomini Di legge Lei cosa fa qui Non si vergogna Non si sta in piedi Senza far nulla Vai L'ho missato male Questa volta l'ho colpito Ma non è morto Si sta salvando la vita Vai vai Giriamo largo Giriamo largo Giriamo largo Giriamo largo Questo ce lo ritroviamo davanti Morto Easy Guardalo Ma come arriva di corsa Sor E muori Mamma mia Ma quanto Come ti ostini Sulle cose In realtà forse non serve neanche caricare tutte queste volte Ma io c'ho proprio la C'ho proprio dei problemi A voler ricaricare anche quando non c'è bisogno Ah questa è Eh ma qui allora c'è gente Ma porca miseria che smirata incredibile Ho fatto La via del cavallo è un po' quella che è È anche un pochino zuzzo Eh lo so ne sono consapevole Aspetta Getti cavallo Eh olio di serpente Vai Beva beva Diciamo che non fa molto danno questo Sì io c'ho una capacità comunque a far volare i cappelli Che è incredibile Due sessanta Ok penso che ci possiamo da Damose 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 Mori Maledetto Ui guarda che bel primo piano a cavallo Occhio che Sappiamo che caschiamo abbastanza easy Beh praticamente avremo delle città più incriminate Tipo Blackwater Vale Sì perché secondo me mi ferma le poste Adesso Ma che stiamo mate Stanno andando in ritirata Poi dovremmo stare Guarda c'ho una zebra Non c'ho più un cavallo C'ho C'ho una zebra Incredibile Ok new one over 280 dollari Di taglia Ok Aspetta un attimo Qui dobbiamo Rifullare un po' anche il cavallo Perché Ok Ancora devi essere pulito Ma sei pulito Ma dai Dopo di questo Abbiamo anche new one over Dove siamo ricercati Per 280 dollari Quindi 280 385 255 Diciamo che Blackwater Ci abbiamo preso un pochino la mano Ovviamente abbiamo queste due città Che sono leggermente più incriminate Perché è lì che abbiamo fatto il danno Adesso qui Dobbiamo tenere penultima Intanto andiamo a Creare del panico Qui nelle mine A Rhodes O a Saint Denis Magari Rhodes Che è un po' più isolata Magari si Forse è meglio Ed eccoci arrivati qui In quel di Rhodes Abbiamo visto che Praticamente andare troppo in giro A cercare cose Non è necessario Quindi Vai Uno La signora Il signore Uno Due E tre Ladies Ma che vuoi Uh Madonna il cavallo è passato Preciso Preciso Ok vai 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 Girati 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 No questa è un cavallo Non ti incastrare però Perché altrimenti Sono problemi Aia Oh Che cazzo Che sparo Ma che siamo matti Ma guarda qui Eh Rhodes Sono più cattivi Sono incattaviti Sono incattaviti La maschera ce l'abbiamo Sì sì ok Perché quando ci arrivano Contro con i cavalli Possiamo anche sparare Al cavallo Li facciamo cascare E risolviamo la faccenda In modo molto easy Quindi li facciamo cascare Li appiediamo Occhio No 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 Gira Gira di qua Gira cavallo Gira Gira cavallo Gira Gira cavallo Gira Madonna mentre Porca miseria Incredibile Pazzesco Meraviglioso Ma voi Ma voi Chi cazzo si è Io faccio fuori Madonna santa Io a far volare i cappelli Guardalo Madonna Con accanimento Eh che diamine Ah quello è quello Che avevamo Azzoppato prima Vai 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 Eh Il Dead Eye Ce l'abbiamo quasi Quasi secco Va Porco Schifo Vai di olio Di serpente Salta Porca Porco 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 Salta Oh mio dio Madonna Pensavo di essere andato per terra Vai vai Con la pistola abbiamo più Più rapidità di fuoco Più cadenza 255 Ok forse possiamo Darci alla fuga Damose Vai vai Carica Carica Poi capirai con le pistole Che abbiamo C'abbiamo quella De Calloway La Volcanic Sono due pistole Da paura sono Vai 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 Certo Quattro ore e mezza Per ricaricare Però vabbè ci sta Oh attenzione Che abbiamo Quello lì Che facciamo Non lo facciamo fuori Pare brutto Dove sta Ok così non ci segue 320 Ma eh Via 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 perché qui se ci mettiamo a farci prendere la mano Veramente Arriviamo Ad avere Troppo di taglia E E non è affatto consigliabile Ok Nelle main 350 dollari D'Italia Perfetto Allora Adesso Visto che abbiamo quasi Tutto rosso Ci manca Solo questa parte A nord Ambarino Che è la parte più complicata Proviamo ad andare qui nelle Grizzly's East Grizzly's Est Eh Qua Qua è greve Qua non c'è un posto abitato Neanche a pagarlo Dovremmo eventualmente Cercare Qualcuno Qui nei paraggi Ma chi cazzo c'è Alle brutte Dobbiamo andare ad Hannesburg Vedere se ci facciamo Inseguire qui ad Ambarino Se poi Riusciamo A prendere la taglia Qui ad Ambarino Anche perché Allora qui è zona Nevosa Montagne Quindi qui effettivamente Non c'è proprio nessuno Dove possiamo avere La possibilità di trovare qualcuno È qui Tra Tra appunto Hannesburg E qui Nelle Grizzly's East Proviamo Proviamo ad andare Proviamo ad andare Verso qui Verso Verso il lag Vediamo un attimo Cosa riusciamo a fare A parte quanta strada Dobbiamo fare un botto Viaggio rapido ad Hannesburg E si risolve Allora siamo ad Hannesburg Taglio ovviamente 280 dollari Quindi Dammo se Perché Siamo comunque Ricercati Qui nelle Moine Be quiet Perché la situazione Non è di certo Delle migliori Ok Proviamo ad andare qui Allora al lago Vediamo nel caso Se riusciamo a Ci proviamo subito Magari a farci seguire Da qualcuno Che ne dite Così magari Vediamo nel caso Di dover ritornare indietro Potrebbe essere Una good idea Testimone omicidio Vai vai Guarda qua Ah cazzo Non l'ho messo la mano Merda Sono un coglione Fuck Zitto 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 Dai Facciamoci seguire Beh uno magari ogni tanto Lo facciamo fuori Giusto per non avere Proprio una flottaia Che ci segue Tanta arriva Maston Però dico io No C'hai veramente Un equilibrio Alzati Alzati ma che sei scemo Ma che siamo matti Dov'è Ma porca di quella puttana E lo sta Merda 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 Ok forze Sali 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 Via 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 Oh porca puttana Vai 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 Dobbiamo Ok 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 Madre di dio Come ce la siamo rischiata Male male Ma che siamo matti Ma che stiamo impazzendo Vai 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 Che ci stanno inseguendo Dov'è che dobbiamo arrivare Porco schifo Ma speriamo Ma guarda qua Ma siamo matti Ok dobbiamo sopravvivere Questa è la parte più Questa sarà la parte più Questa sarà la parte più concitata E forse anche la più divertente Perché le altre È stata abbastanza Toccata e fuga Qui basta farci Poi quando ci perdono Poi quando ci perdono Basta ammazzarne qualcun altro A tirare l'attenzione Lasciare dei cadaveri Lasciare dei cadaveri Tipo filo d'Arianna Solo che noi anziché il filo d'Arianna Lasciamo i cadaveri in giro Altro che il filo d'Arianna Con il Minotauro Qua lasciamo i cadaveri in giro E passa la paura Attenzione però Orca puttana Senti un po' qua Abbiamo tipo Jean Qualcosa Brande di qualità Ok questo qui Sì questo mi ricarica Tutte le stats Tonico miracoloso Ok Aia Aia Madonna qua c'è in secolo male Eh non posso ucciderlo Questo qui Perché ne è rimasto uno Ok ok Dai si stanno Si stanno affollando Si stanno affollando Bisaccia Provviste Vai perché dobbiamo ricaricare Il nucleo interno del Dead Eye Ok dobbiamo Eh la taglia qua Sta salendo Ma lo stiamo facendo per Perché dobbiamo cercare Di portarli Oltre confine Per vedere se Mi attivano la taglia Anche In Ambarino Potrebbe essere Rischio Cioè potrebbe essere Anche tutto molto inutile Perché nel caso Se non funziona Allora ok Stiamo per Ok stiamo per arrivare Ad Ambarino Ok lo scopriremo Qui tecnicamente Siamo fuori La loro giurisdizione Ma forse mi continuano A prendere la taglia Da là Allora però Se riusciamo ad attirarli Un po' dentro E poi a fuggire Tecnicamente Potremmo Potremmo poi Andargli contro Ucciderli qui E far ripartire La La taglia da qua Basta sempre Tenerli d'occhio Allora il cavallo Però è rincoglionito Gira su Ste stesso Ok 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 fermi Vediamo se riusciamo A rintracciarli Di nuovo Perché adesso Siamo ad Ambarino Giusto? Siamo ad Ambarino Qui non abbiamo Una taglia Vediamo se riusciamo A far funzionare La nostra strategia Oppure abbiamo fatto Incrementare Quella inutilmente Ok Maybe non ha funzionato Ok No eh Questi testimoni No eh Questi sono Un gruppetto Ah secondo me Qua la maschera Va tolta Però Dobbiamo farci Identificare Un cazzo di testimoni Ci sarà no? O forse no? Non lo sapremo mai Ci proviamo ma Allora Quando io uccido qualcuno È sempre pieno di testimoni Vuoi che questa volta Madonna Ci sia nessun testimone Testimone Sì 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 Sono io Sono stato io Sono stato io Sì sì It's me It's me Denunziami 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 Omicidio vai Denunziami Denunziami Vammi a reportare Please Reportami Please Su su Qualcuno qua Qualcuno qua Che mi viene a Che mi viene ad uccidere Facciamo aumentare questa taglia Oh eccoli che stanno arrivando Vai Allora mettiamoli sulla montagna Vai Che mo' Ricecchino Amo tutti Signori Vai 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 Facciamo salire questa taglia Dai così Dai così Sì Fatalo questo Fatalo Come ti permetti Boom Madonna Io ho sparato Io ho rifatto il naso Gli ho rifatto questo Vai Sono qui Sono qui Bello Bello Belli testimoni Belli testimoni Cerchiamo la legge in corso Vai Ricercatemi Ricercatemi Arriviamo a 2.50 Poi sediamo alla fuga Alla fuga più fuga Bottiglia incendiaria Senza magari dal fuoco al cavallo nostro No Ma che bastardo Ruzzolati Ruzzolati No Sto per morire Madonna Ha fatto il pezzaccio raro Questo Figlio Dio Una gran puttana Maledetta Li volevo da fuoco Invece Ha sparato la bottiglia Moritacci Su Moritacci Ma che stiamo impazzendo qua Che prendiamo queste iniziative Ma t'ha fatta un culo Pezzo di merda Ah si Senti come urla Senti come urla Mortacci De pippo E intanto qua stiamo disboscando tutto Eh diciamo che abbiamo avuto un pochino caldo Probabilmente Sai Holy moly Dai Come hai fatto tu a non prendere fuoco Mi chiedo io Amore ammazzato Adesso ti cerco 2,30 No No Ma io c'ho una taglia di 2,30 Non puoi farmi finire così le guardie Ma sono scappato combattendo Ma dai Ma dai 20 dollari Mi servivano altri 20 dollari d'Italia Madonna ma è di un complicato clamoroso No Holy shit Ma ci stavamo Ma altri 20 dollari me li potevi da Sto a far macello Sto dando anche fuoco alle persone Vai denunziami Denunziami Qualcuno che veda il cadavere Io sto a provare a far danno Raga ma qua 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 la vedo molto greve la situazione Ok vai Denunziami Denunziami my man Ricercato Crimine segnalato Perfetto Adesso arriverà qualcuno No Oh grazie a Dio Allora adesso ci mettiamo la bandana Così almeno non siamo riconoscibili Ci facciamo questi altri 20 dollari Che mi penso mi basterà ammazzarne un paio No Vai così Vai così 305 L'abbiamo fatta Zee Quindi adesso via 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 Adesso via via Come se non gli fosse domani Damose 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 Cioè vedi Mi bastavano due persone in più prima Cazzo abbiamo salito Siamo saliti di 100 dollari Ok 325 Ok adesso siamo ricercati Allora sono le 10 e 39 Dobbiamo farla arrivare un po' di volta Adesso le 10 e 39 Quindi facciamo l'accampamento E facciamo passare queste giornate Io intanto un'ora Che mi fa Che faccio sparatori E ammazzo persone Come se Come se piovessero Ok Se io dormo Fino al mattino 20 ore E già Andiamo belli che avanti Dobbiamo far passare 72 ore Ne abbiamo fatte Così ne facciamo passare 20 Ok Ne rimangono 52 Abbiamo preso peso Non si sa com'è possibile Ok Ridormiamo fino a notte Altre 17 ore E stiamo a 37 37 forse anche 38 Perché da quando ci siamo svegliati Un po' di tempo è passato Sì Braccaro dai cacciatori d'Italia Capirà Siete rimasti in due Siete rimasti Vi ho già decimato Tac Uno Ma vaffanculo Non è morto? What? Eh che cazzo Ma guarda questi Braccato dai cacciatori d'Italia Ecco qua Eh certo Io sono pollo Che mi faccio braccare da voi Ma va 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 Perfetto ladies and gentlemen Trofeo guadagnato Ricercatissimo Ok Sono stato un po' in giro Mi sono messo a Aspetta che effettivamente Ok devo rimettere la camera Perché siccome sapevo di esserci quasi Ho detto Ok levo la camera A meno Si vede anche il popappino A parte che siamo sporchi di sangue Vabbè ho dovuto uccidere dei cacciatori d'Italia E quant'altro Infatti eccoli qui Che ce ne sono altri Allora signori Io posso concludere qui Questo episodio In realtà Metto start In pausa Così non sono distrubbordo Eventuali cacciatori di tagli E io vi ringrazio Per aver seguito Anche questo video È stato un video Un po' diverso Probabilmente poi ce ne saranno altri Perché abbiamo ancora Un po' di cose Particolari e carine Da dover andare a fare Enigmi da risolvere Cose da cercare Da trovare E da esplorare E in più poi Ci faremo qualche episodio Incentrato sulla caccia Dove andremo a prendere Le pelli perfette Di un po' di animali Per poterci Creare tutti Gli abiti speciali Dal trapper Signori Quindi io intanto Vi invito a lasciare un like Un commento Iscriviti se non è ancora fatto Non so quanto sarà durato Questo video Quindi il piano è corto Ci vediamo Un prossimo episodio Qui su Red Dead Redemption 2 E un prossimo video Sempre qui ovviamente Sul mio canale Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.